I numeri, non li sopporto più, la matematica 14 sono i gol subiti dalla Virtus Avellino in 19 gare La squadra allenata da Misserrino Criscitiele è la miglior difesa del girone B di eccellenza Seconda, solo a Savoia, che di Rettini ha subito i 11, ma che desiede nel girone A Dove sta letteralmente stracciando il campionato 19 sono i punti raccimolati in casa dalle clanese Orefici e compagni hanno dimostrato di saper vendere cara la pelle Tra le mura domestiche e le vittorie contro Cervinari ed Agropoli ne sono un esempio concreto In promozione al vertice della classifica il dato più interessante riguarda il numero di pareggi della capolista San Tommaso E della seconda della classifica Paulisi Entrambe le compagni hanno pareggiato soltanto in due occasioni, nonostante siano passate 19 giornate E per questa settimana facciamo uno strappo alla regola di eccellenza e promozione Ed inseriamo nella classifica speciale dei numeri anche la prima categoria Perché 7 è il numero dei risultati utili consecutivi del città di Mercogliano Che si sta conquistando, partita dopo partita, un biglietto per la lotteria playoff Ma siamo liberi 3 per 5 Senti Senti